Non ci sarebbe stato nessun altro partito per Matteo Tosetto dopo essere uscito da Forza Italia il 31 luglio. Lo ribadisce all'indomani della decisione del sindaco Francesco Rucco di revocargli l'incarico da assessore al sociale, maturata ieri dopo giorni di confronti e richieste di chiarimenti più vute sia dai banchi dell'opposizione che dall'interno della coalizione di centrodestra che sostiene il sindaco. Io ho confermato al sindaco questo fin dall'inizio, lo confermo anche oggi nel senso che dopo 26 anni di vita di partito a cui devo molto e a cui sono ancora legato in parte perché è un percorso di vita importante e prima di riaderire a un nuovo partito ci penserò seriamente. Avevo garantito al sindaco non solo che non mi sarei iscritto a un nuovo partito ma anche che non avrei preso vita la campagna elettorale politica che è alle porte. Il mio intervento sarebbe stato solo e esclusivamente in campo sociale. Critico sulla scelta subita non nasconde l'amarezza soprattutto per non poter continuare a portare a termine gli obiettivi prefissati tra tutti quelli legati al PNRR. Un'amarezza nel senso che non riuscirò più a portare avanti quelle che sono state delle progettualità importanti di un confronto con tutte le realtà del territorio perché in questo momento stiamo vivendo una situazione sociale molto difficile e il settembre è alle porte, le difficoltà le vediamo sono maggiori e il fatto anche di non avere più un governo stabile ci porterà ancora di più a peggiorare quella che è la situazione. Io ero pronto a cercare insieme ai nostri uffici sempre di migliorare quelli che potessero essere i servizi sociali perché non dimentichiamocelo, in questi anni i servizi sociali si sono dovuti trasformare sempre di più si dovranno trasformare perché l'utenza è cambiata ci sono molte persone che hanno bisogno di un aiuto pubblico e che non sono mai state abituate a richiederlo e che i servizi sociali in modo molto dignitoso dovranno sicuramente essere presenti. Deleghe alle politiche sociali e alla partecipazione che verranno assorbite all'interno della giunta esistente dall'assessore al bilancio Marco Zocca.